Un interessante convegno sull'orientamento scolastico si è tenuto nella sala convegni della comunità montana Peligna. Molto significativo il titolo. La terza media e poi? Proprio così. Terminata la media i ragazzi si trovano di fronte ad un dilemma. Che strada scolastica intraprendere? Oggi tutti ci riempiamo la bocca del fatto che il futuro è dei giovani ma i giovani vanno orientati. In una società sempre più complessa è chiaro che l'orientamento diventa l'elemento principe. Per cui è evidente che eventi di questo tipo, a corredo peraltro di percorsi perché non sono eventi spot organizzati così ma che rappresentano la conclusione di un iter, in realtà segnano la giusta evidenza che a queste situazioni va data. Al convegno erano presenti dirigenti, dirigenti scolastici, docenti, genitori, ragazzi stessi. Il convegno è stato organizzato dall'Istituto Superiore Enrico Fermi, polo scientifico tecnologico, numerosi e qualificati i relatori. Oggi tutte le scuole stanno aprendo i battenti alla cittadinanza per far sapere ai genitori ed ai ragazzi stessi cosa possono offrire in materia organizzativa e strutturale. L'orientamento era sicuramente importante anni fa quando noi abbiamo temperato ad una scelta di vita lo è sicuramente molto di più oggi dove l'aspetto lavorativo esterno eccetera dopo un percorso che è quello delle scuole superiori o di scelta di un corso universitario è sicuramente più importante di allora in quanto oggi il mondo del lavoro sappiamo quali problematiche ha e che cosa comporta. Il lavoro del polo scientifico tecnologico Fermi di Sulmona è sicuramente stato importante in questi giorni perché pone i ragazzi in una condizione di coscienza e di conoscenza più importante rispetto a quello che possa essere effettivamente un valore nudo e crudo quale quello del semplice compiere un percorso di studi.